Forse non dovevamo. Voci dall'infinito attraverso Wanda a cura di Vubbi. I fratelli dello spazio, cara sorella, siamo stupiti della perplessità che hai manifestato durante un incontro avvenuto con altri fratelli umani e con la luce che vi parlava. C'era molta luce e tanta vibrazione. Noi ci siamo avventurati a porre alcune domande, non per avere una conferma, ma per testimoniare la nostra presenza, sentendoci attratti dalla luce forte e accecante che emanava quel raggio luminoso e d'amore. Vuoi sapere che cosa la luce abbia risposto alla nostra domanda? Innanzitutto che forse non dovevamo introdurci nel vostro convivio d'amore, visto che noi conosciamo abbastanza tale sentire e anzi, per essere più precisi, come già ti abbiamo detto altre volte, noi lo viviamo.